Sono riprese a pieno ritmo le attività per il completamento del primo lotto della statale 640 Agrigento Caltanissetta. In questa fase due i cantieri aperti, qui si lavora per realizzare il viadotto Serra Cazzola 1, quasi un chilometro di tracciato. L'imbalcatura sta per essere ultimata, un'opera d'alta tecnologia con l'utilizzo di un sofisticato sistema di sollevamento e spinta sincronizzata. Tanta tecnologia che è dettata più che altro dal viadotto, che è uno dei viadotti più grandi e più impegnativi che noi abbiamo in Italia. Il sistema è particolarmente interessante perché ci permette di poter varare 545 metri, che è la parte restante di viadotto dal lato Caltanissetta, di poterlo congiungere all'altra che abbiamo già montato e spinto dal lato Agrigento. Quali sono le caratteristiche più significative? Le caratteristiche sono che attualmente ha entrambi le carreggiate che poggeranno su una pila unica, quindi ha una larghezza di 26 metri e mezzo, con un peso totale per quanto riguarda la carpenteria metallica che si avvicina a un 10 tonnellate al metro, quindi per una lunghezza di 980 metri siamo su 10.000 tonnellate. Qui siamo invece dopo il secondo tratto del viadotto Serra Cazzola, operazione di svuotamento in corso per la realizzazione di una galleria artificiale. Sì, 105 metri di lunghezza, larga 25 metri, stiamo svuotando e con il materiale che utilizziamo facciamo il rilevato avanti. Onestamente adesso siamo fermi perché dopo due giorni di pioggia non possiamo stabilizzare, però è questa la tecnica che usiamo, scaviamo qua e portiamo il materiale dall'altra parte per fare la stabilizzazione. Quando dire a lavoro quante sono le unità impegnate? 200, in questo tratto sono 200 persone impegnate per lavoro, soltanto in questo tratto. Chiaramente l'utenza non lo vede perché siamo nella parte invariante e quindi non riesce a vedere il lavoro invasivo che facciamo in questa zona. Entro la fine dell'estate la società Empedocle consegnerà all'ANAS gli ultimi 8 chilometri che mancano all'appello rispetto ai 36 previsti dal progetto. Sicuramente dal Gassena al Glotta Rossa andrete in autostrada. Dalla Gassena invece al distributore Erg? A seguire, a seguire, si completerà a seguire anche se inizieremo, però non molto, anche alcune opere dall'altra parte.